Siamo a Trapani nel popolare quartiere Sant'Alberto Fontanelle Sud purtroppo a constatare che il murale realizzato nel 2019 dall'artista Nanno Gandolfo in collaborazione con il comitato di quartiere Sant'Alberto Fontanelle Sud dedicato alla dottoressa Morvillo, al marito Giovanni Falcone e agli uomini della scorta morti 30 anni fa nell'attentato di Capaci è stato vandalizzato tra l'altro con simboli mi viene da dire inquietanti possiamo notare una stella all'interno di un cerchio ma anche una croce rovesciata e poi ancora delle oscenità disegnate sulla bocca della dottoressa Morvillo Giovanni Parisi presidente del comitato di quartiere Sant'Alberto Fontanelle Sud nel 2019 aveva tanto desiderato e voluto la realizzazione di quest'opera murale dopo la cui realizzazione tra l'altro la piazza dove insiste il manufatto dipinto è stata intitolata alla dottoressa Morvillo Ritiene che sia un caso che l'opera sia stata così brutalmente imbrattata proprio nel trentennale della strage di Capaci? Questo atto vandalico vogliamo interpretarlo così non è una cosa bella che succede nel quartiere, il quartiere è nostro, lo dobbiamo rispettare, dobbiamo rispettare la legalità, portarla tra i ragazzi nel quartiere Un chiesto del genere non so come definirlo, se definirlo una bravata dovuta all'ignoranza o una cosa un pochettino più pesante che neanche vorrei pensare Ma purtroppo la devo pensare, quindi bisogna spiegare ai nostri ragazzi chi è che è morto per la mafia, chi è morto per noi per vincere e lottare la mafia a favore di una terra, che hanno rovinato una terra Oggi sì hanno vandalizzato un murales, questo bellissimo murales, ma non hanno vandalizzato soltanto un murales, hanno vandalizzato anni e anni di lotta alla mafia E adesso cosa intendete fare? Che farete? Ripristinerete l'opera? Come intendete muovervi? Adesso assieme all'artista Nanno Gandolfo è stato l'artefice sul nostro iniziativa ma lui è stato il braccio, la mente, è stato tutto quello che ha realizzato il murales Cercheremo di ripristinarlo perché deve tornare per come era prima, perché deve essere più bello di come era prima Magari stavolta gli scriviamo chi è questa signora, se qualcuno non lo sa penso e spero a meno che sappia leggere Fra l'altro l'iniziativa del murales è stato dato anche il nome alla piazza, questa era una piazza senza nome Adesso è piazza Francesca Morvillo, ce la ricordiamo ogni volta che passiamo di qua, però non dobbiamo vedere questo scempio